Allora, parliamoci chiaro, ci sono molti modi nella vita per autodistruggersi, alcuni sono divertenti, altri un po' meno, per esempio ci si può dare all'alcol e alle droghe e sbagliando il modello da imitare dalla serie Shameless, oppure si possono seguire su Twitter i dibattiti su DDL Zan, sul Covid o sulla scuola, tutti i modi bellissimi per autodistruggersi ma nulla è più efficace del sabotare le proprie relazioni. E visto che per buona parte della gente il sabotaggio spesso non è manco volontario, oggi vi dico 5 modi perfetti per farlo, per distruggere le vostre relazioni e nel caso vogliate farlo, insomma questa è la puntata giusta di Daily Cogito e poi sceglierete se farlo o meno, ma prima, come sempre, la sigla! Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie Spesso, spesso e spesso mi capita di dire qui su Daily Cogito che avere cura delle proprie relazioni è la via maestra per avere cura di sé, perché noi ci rispecchiamo negli altri e se curiamo la relazione con gli altri abbiamo con maggior chiarezza l'immagine di quello che siamo. Ed è per questo che nei periodi di abbruttimento, quelli in cui diventiamo cose veramente orribili, in cui vogliamo farci del male, in cui perdiamo noi stessi, La prima cosa che facciamo è fare del male alle nostre relazioni, in quanto è una cosa interessante, è un meccanismo di difesa dell'autodistruzione, cioè gli altri sono lì per evitarmi di autodistruggermi E quindi io allontano gli altri e rovino le relazioni per potermi autodistruggere in libertà, è una mia libertà, voglio autodistruggermi Ecco, se uno ha quel tipo di tendenza, ben venga, si impara molto anche dell'autodistruzione, come si dice in Fight Club, l'automiglioramento è noioso, l'autodistruzione invece, se uno ha quella tendenza lì, va bene, troverà comunque consigli molto utili per farsi del male Se invece non avete quella tendenza, beh, sappiate che comunque tutti quanti ci autodistruggiamo periodicamente nella vita e in quei periodi perdiamo relazioni, amicizie, amori, rapporti di lavoro, familiari E invece avere un po' consapevolezza di come funziona questa cosa mi sembra importante, io nella mia vita, ne vado anche un po' orgoglioso, ho mandato all'aria moltissime relazioni Soprattutto a causa di atteggiamenti insulsi, immaturi, e non solo in adolescenza, ma anche dopo, nel lavoro, nelle amicizie, è una cosa che succede Tutti quanti poi ricordiamo quei momenti cercando di autogiustificarli, e invece mi sono fatto un esame di coscienza e mi sono accorto di quando lo stronzo ero io Mi sarebbe molto piaciuto conoscere in anticipo certi meccanismi, non per evitarli, perché, capiamoci, un video, anche il daily cogito più centrato sul problema non sarebbe bastato Perché serve la pratica e la teoria, anche se io adesso vi do tutte le teorie, tutte le ragioni utili per non sabotare le relazioni Comunque lo farete, perché queste sono cose che si imparano solo quando si fa l'esperienza Bisogna rimpiangere le relazioni perdute stupidamente per imparare qualcosa Il che significa che questo video potrebbe essere anche discretamente inutile Ma noi ce ne fottiamo dell'utilità dei video, io questo lo faccio per me, non per voi, quindi direi di partire Ma prima di partire, un doppio appuntamento che non potete perdere Giovedì 22 alle 21 qui sul canale Twitch facciamo una live monografica su Don Quixote della Mancia E sarà un approfondimento su una delle opere più straordinarie nella storia della letteratura E sviscereremo i personaggi e le vicende e lo stile e i temi e ci divertiremo un casino perché Don Quixote è un libro straordinario Quindi alle 21 giovedì sera da non perdere E poi venerdì 23 alle 17 qui in studio avremo dal vivo Marco Cappato e Costantino De Blasi Durante l'accogitata parleremo di referendum di eutanasia, di politica, di economia, di etica, di filosofia e tante cose E poi la sera, se siete di Vicenza, Padova, Tiene, Schio ed intorni A Tiene, a Palazzo Zironda, si terrà una serata conferenza con Marco Cappato Con il sottoscritto, con Costantino De Blasi, con altri influencer come Andrea Lorenzon di Cartoni Morti Just Mick, Genaro Romagnoli, Alessandro De Concini E faremo un simposio sull'eutanasia e non solo In quell'occasione sarà possibile anche raccogliere le firme per il referendum eutanasia Ed è bello sapere che tutto questo nasce anche grazie a Daily Cogito È una cosa che mi rendo orgoglioso, però lo sappiamo Sono tutti sforzi inutili, visto che questa piattaforma non merita persone che desiderano essere brave Perché cadono in un perfezionismo mal riposto E adesso vivi nel timore di deludere le aspettative Questa è una regola proprio per demolire orizzontalmente e verticalmente qualsiasi possibile relazione Vivere nella paura di deludere le aspettative Questa regola, che è una di quelle che seguiamo sempre per farci del male in relazione agli altri Presuppone una magia Una magia che non esiste, è la magia di conoscere le aspettative altrui Ma noi viviamo nel desiderio di conoscere e indovinare le aspettative altrui E quindi spesso ci convinciamo di cose molto storte Ovviamente, e questo lo voglio dire perché è importante, noi siamo creature fatte di aspettative Noi ci aspettiamo qualcosa dalla realtà e la realtà è composta anche dagli altri E quindi vanno bene le aspettative quando sono esplicite Cioè quando le raccontiamo, quando le manifestiamo Perché in quel caso li diventano dei patti, non sono più aspettative Se io mi aspetto qualcosa da te e te lo esplicito Tu mi puoi dire tranquillamente No, guarda, questa cosa sì o questa cosa no E questo è il ruolo fondamentale dell'aspettativa Ma quando le aspettative rimangono implicite Diventano fonte di menzogne Diventano fonte di stress Per esempio, nella coppia Nella relazione di coppia Questa cosa qua è demolente Perché nella coppia Il ruolo, per esempio, vi faccio un esempio Che io ho visto anche nella mia vita Nella coppia Il ruolo di chi porta il pane a casa Come si suol dire È motore di fraintendimenti C'è l'uomo molto spesso In questa tradizione molto stupida Si dice nella testa Spesso inconsciamente Lei si aspetta che io provveda Magari non è vero Perché magari lei sta cercando di farsi una carriera Magari lei vuole quella responsabilità E magari tu te la vivi male quella responsabilità Perché non è fatta per te E se non si esplicitano queste cose Diventano il motore dello stress E sono aspettative che sono basate Non sulla volontà reciproca Ma su una tradizione Su pregiudizi Se noi non esplicitiamo Capita che io mi monto in testa questa idea La porto avanti completamente Con ogni fibra del mio corpo Poi scopro, nella migliore delle ipotesi Che era un'aspettativa Che io proiettavo su di lei Che in realtà non stava in piedi Lei non aveva quell'aspettativa Oppure scopro che lei proprio odiava Quel tipo di idee Quindi faccio dei danni E lì partono i silenzi Invece bisogna sempre esplicitare Le aspettative per quanto possibile Ecco questo è il modo perfetto Cioè vivere di aspettative implicite È il modo perfetto per Comporre un castello di menzogne Che poi è terribile Perché sono maschere su maschere E che noi ci mettiamo addosso In modo totalmente inconsapevole E spesso anche invece consapevole E questo crea un problema molto forte Perché poi tu vivi nel timore Di violare aspettative Che non sono mai state messe sul piatto Di quel patto E lì basta Lì basta perché ovviamente Quando quelle aspettative Si rivelano per quello che erano Cioè illusioni Tu provi anche la vergogna E questo porta a ritrosia E a rancore E lì la relazione finisce veramente male E rischia di creare Un problema speculare peraltro Sono io a un certo punto Che nutrendo il timore Di deludere le aspettative altrui Comincio ad aspettarmi dagli altri Cose non esplicitate E capite bene che lì diventa Un gioco di rimpalzi E rimpalli assolutamente ingestibile E quindi volete distruggere la vostra relazione? Vivete nel timore di deludere Le aspettative altrui Che non esistono Secondo modo per demolire Alla base amicizie Relazioni d'amore Lavorative Non ascoltare Aspetta il tuo turno per parlare Presa da sola Aspetta il tuo turno per parlare Potrebbe anche essere educazione Non scavalco l'altro Quando sta discutendo Ma alla base c'è il non ascoltare In effetti Quando tutti noi parliamo Vogliamo essere ascoltati Noi abbiamo sete Dell'attenzione altrui Però spesso ci dimentichiamo Che questa cosa ci fa dimenticare Di dover ascoltare gli altri E ovviamente anche lì si crea Un problema Che spesso Di cui spesso diventiamo vittime È un protagonismo tossico In cui mentre l'altro parla Io penso a quello che dirò Attenzione però Questo è un meccanismo psicologico interessante Non solo aspetto il mio turno per parlare Ma mi crogiolo Nell'immagine Di me stesso che parla Cioè Non solo penso alle parole che dirò Ma penso all'effetto Che le mie parole diranno A quello che proietterò Nei confronti degli altri Quando mi inserirò Nel frattempo il discorso dell'altro Va avanti Ma io non so quello che sta dicendo Quindi faccio anche delle figure di merda Spesso perché ripeto cose Che lui ha già detto Lei ha già detto E quindi è un disastro Faccio un esempio Esempio che forse tutti quanti Avete vissuto sulla vostra pelle Prendete un amico Un amico che confida Di essere stato tradito Dalla sua ragazza Quindi una confessione Una confidenza molto pesante E tu nel mentre Che pensi solo al saggio consiglio da dare Perché il tuo problema Non è ascoltare l'informazione Che ti viene proposta E consegnata Ma è proiettare Quando sarà il tuo turno Un'immagine Che convinca L'altra persona Il fatto che Ha fatto bene A confidarsi con te Non c'è niente di peggio Perché questa cosa Poi viene fuori È inevitabile È capitato a tutti Capiterà a tutti E quando poi Viviamo la vergogna Di essere smascherati Allora lì forse Impariamo qualcosa Altrimenti Ci chiudiamo a riccio E mandiamo a fanculo L'altro E un'altra relazione È bruciata È un elemento Deteriore Della proiezione Di me stesso E attenzione Perché questo è molto interessante Quando qualcuno mi parla Ma io aspetto Il mio turno Per parlare Crogiolandomi Nell'immagine Che darò di me Quando poi parlo L'immagine Che avevo in testa Sarà completamente Tradita Dall'immagine Che effettivamente Si manifesterà Perché in realtà Non funziona così Non è preparandoti L'immagine La tua proiezione Che effettivamente Essa avrà un'efficacia E un qual Certo fascino E quindi questa è la seconda regola Non ascoltare Ma aspetta il tuo turno Per parlare La terza regola Se volete disintegrare I vostri rapporti Di lavoro Amicali O via dicendo È Vivere per mettere La prova agli altri E questo è Per me Forse la regola centrale Perché mi sono reso conto Che per molto tempo L'ho fatto E quindi È un'analisi Che ho fatto Con un'introspezione Nel tempo E mi sono accorto Che questa era una roba Che facevo veramente spesso E ho perso amicizie Ho perso un sacco Di possibilità Ho deluso Persone A causa di questo Ma non me ne sono reso conto Quando succedeva Me ne sono reso conto A distanza di tempo Vivere La relazione con l'altro Come un perpetuo test Per l'altro Attenzione Se la relazione con l'altro È un test per me È una cosa proficua Perché Come dicevo L'altro è uno specchio E nella relazione con l'altro Devo mettermi in discussione Più che test Diciamo così Dovrebbe essere una cartina Tornasole Ma in realtà Mettere alla prova Gli altri Sempre Come se gli altri Fossero mezzi Per assicurarci Della nostra superiorità Ti metto sotto Test Sotto esame Perché questo Mi dimostrerà Che io ti sono superiore Questa è una roba Che a me Ha fatto dei danni Incredibili Faccio un esempio Accade continuamente Sui social network Se non la pensi Come me Allora ti blocco Ti banno Perché Perché hai fallito Un test In ogni dibattito Politico In ogni dibattito Legato a tematiche Sensibili Nel dibattito Intorno ai concetti Polarizzanti Questa cosa È Enorme È pesantissima Noi mettiamo sotto test Tutti quelli che Che discutono con noi Attraverso i social network E questo accade Perché Nel social network Siamo vittime di un solipsismo Cioè siamo noi Da soli E quando siamo noi Da soli Quindi Quando non siamo in relazione Con l'altro Il mezzo del test Considerando l'altro Come un mezzo Per 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 confermare La mia superiorità È forse l'unica strada Certo qualcuno potrebbe dire Bisogna migliare questa cosa Sono d'accordo Sui social network È un po' più difficile Però questo poi si riversa Anche nella vita Nella vita relazionale Cioè quando tu hai Un'effettiva relazione Se metti sotto testa Gli altri Fai veramente dei danni Vedete Questo l'ho imparato Col tempo Per avere una relazione Di ogni genere Bisogna Arrendersi A un fatto Molto semplice Al fatto che Gli altri Sono lo scopo Del mio agire Non il mezzo Questa è la regola D'oro di Kant Tratta gli altri Come se fossero Lo scopo Le persone Se ci pensate bene È una dimensione Infantile Dell'etica Cioè è il bambino Il infante Il neonato Che vede gli altri Come strumenti Per perseguire Uno scopo Principalmente La sua sopravvivenza E felicità Però a un certo punto Si matura Maturare significa Accettare l'altro E cosa vuol dire Accettare l'altro Arrendersi Arrendersi Il fatto che Nella relazione L'altro È lo scopo Di quella relazione E non un mezzo Per trovare Qualcos'altro Poi In alcune relazioni Tipo Non so Quella Lavorativa Ma anche Quella di amicizia L'altro è Anche Un mezzo Per raggiungere scopi Che non sono solo quello Ma io non posso mai Trattare l'altro Solo come mezzo Ecco allora Che noi Quando mettiamo Alla prova Gli altri Li mettiamo alla prova Viviamo questo Mondo di test Come se fosse sempre La relazione Un colloquio di lavoro All'altro Semplicemente Per raggiungere Uno scopo Che è lo scopo Più infantile Del mondo Sentirmi superiore Sentirmi distaccato Sapete quante volte Succede questo E non ce ne accorgiamo E si innescano Meccanismi terribili Che poi alla fine Creano il danno Nella relazione Ma Se avessimo Avuto consapevolezza All'inizio Del fatto che Stavamo mettendo Sotto esame Qualcuno Forse non l'avremmo fatto Di nuovo Questa roba Succede quando Ti fa un danno Quindi io lo metto lì Come teoria E magari Qualcuno Fra qualche mese A cui accadrà Esattamente questo Dirà Ah cazzo Per fortuna Ho sentito quel Delicocito Ma questa è la mia speranza Quarto punto Quarto punto Per disintegrare Mandare Infrantumi Lasciare Imputrefazione Uccidere Qualsiasi relazione Giocare A quello Che ha sempre ragione Oh anche questa cosa qua È importantissima Ora Se vivo la relazione Non solo come un test Ma anche come Una gara Perpetua Ad avere ragione A trionfare Resterò Solo io A discutere con me stesso Usare gli altri Come discarica Delle proprie Insicurezze È proprio La regola perfetta Per Autodistruggersi Noi siamo Composti Di insicurezze L'abbiamo detto Tante volte Siamo fragili Anche quando Diciamo cose Su cui siamo Molto sicuri In realtà Abbiamo sempre La vocina Di fianco Che Fintanto che Non l'ammazziamo Ci dice Guarda che forse Un giorno Ti rendi conto Che ti eri Sbagliato E può essere E quando poi Sbagli Se te ne accorgi Fai un passo In avanti Però Però noi Quelle insicurezze Spesso le usiamo Contro gli altri E contro noi stessi Il fatto di voler Sempre avere ragione Il fatto di metterti In competizione Costante con l'altro È parte integrante Di quel problema Ora Voler avere ragione Perché Sta alla base Della distruzione Di qualsiasi Relazione Che sia degna Di tale nome È perché Alla base Porta con sé L'incapacità Di riconoscere Le ragioni Altrui Io non cambierò Mai idea Significa Che qualsiasi Possa essere La tua idea Io non andrò A scavare Perché la pensi Così E viverò Soltanto Nella missione Di prevaricarti Di valicarti Attenzione Questo non significa Come detto tante volte Anche quando abbiamo Parlato di argomentazione Che io non debba Sostenere le mie ragioni Fintanto che ci credo Ci mancherebbe Io Le mie idee Le difendo Finché le argomentazioni Proposte In contrario Le mie convinzioni Non mi dimostrano La loro fallaccia La loro invalidità Ma finché quella cosa Non capita Io difenderò Le mie idee Ma non perché voglio Avere ragione Sugli altri Le difenderò Perché ci credo Veramente Credere veramente In un'idea Significa anche Vederne i limiti Sapere che ci sono Dei presupposti E sapere questo Significa capire Che l'altro Ha dei presupposti Ha delle ragioni Per pensare In un certo modo Ovviamente nella gara Chi ha sempre ragione Ribadisco Non c'è nessun vincitore Quando si gioca così Avere ragione Diventa Per gli altri Un peso enorme Perché di solito Chi vuole sempre Avere ragione Fa pesare All'infinito Quel fatto Chi vuole sempre Avere ragione Che comunque ha ragione Poche volte Come tutti quanti Quelle poche volte In cui ha ragione Effettivamente Diventerà pesante Perché il suo ego Trarrà una soddisfazione Che valicherà Le argomentazioni In sé per sé E questo Credo che sia Veramente Veramente fastidioso Per me invece Diventerà uno stress Quando avrò torto Cioè nella maggior parte Dei casi E questo è un problema Non da poco Attenzione Qual è un modo Per uscire Da questa cosa Ve lo dico io Quale mezzo Ho trovato Il gioco Per me il gioco E sto parlando Proprio dei giochi Tipo risico Tipo katan I giochi con cui Ogni tanto Qualche volta Ci dilettiamo Di sera A casa mia Insieme ad amici Fra cui Il qui presente è Fede Il gioco È la dimensione In cui tu riesci A mettere dentro Quella cosa Quella competitività Che però chiudi lì Cioè Uno vince O perde una partita a risico Durante la partita È un pezzo di merda Odioso Bastardo Manipolatore Io sono esattamente così Quando gioco a risico Ma mi piace molto E questo Poi Mi permette Di chiudere il gioco Una volta finita la partita E tornare a una dimensione Normale Il gioco diventa Una catarsi Di un istinto Che tutti noi sentiamo Voler avere Sempre ragione Il gioco diventa Veramente un luogo Perfetto in cui Rinchiudere Quindi Ricordatevelo questo Il gioco Se vissuto in questo modo È uno strumento Essenziale Per nutrire Buone relazioni Soprattutto quando poi Coinvolgi quelle relazioni In quel gioco Ma Uno dei macigni Nella vita di coppia Un macigno che va Veramente contrastato È proprio quello È proprio quello Di voler aver ragione E anche lì Di nuovo Così come il gioco Nell'amicizia Fa questo ruolo L'autoironia Nella coppia Un giorno ci faccio Una bella puntata Dedicata L'autoironia Nella relazione Di coppia Che per me È diventato Uno degli strumenti Fondamentali Per sopravvivere Alla quotidianità E imparare Più Dalle occasioni Di torto Che da quelle Di ragione Se non facciamo questo Allora significa Che stiamo gareggiando A chi ha sempre ragione E in quel caso lì Le amicizie Le relazioni Rapporti Fidatevi Se ne andranno A un certo punto E rimarremo a litigare Con noi stessi E l'ultimo punto Il quinto È Tieniti sempre Tutto dentro Ecco se vuoi demolire Verticalmente Le tue relazioni Tieniti sempre Tutto dentro Ora Qualcuno dirà Ma io non ci riesco Per carattere Non importa Non importa Se è per carattere Per paura Per paura Delle conseguenze O per calcolo Se ti tieni dentro Quel che senti E pensi Sabotterai Le tue relazioni Torniamo al punto uno Quello delle aspettative Se io non esprimo Quello che penso E non esprimo Quello che sono Costringerò in qualche modo Gli altri A indovinarmi E quando io chiedo A qualcuno Di indovinarmi Nella stragrande Maggioranza dei casi Sarò Indovinato Male E quindi sarò Frainteso Come persona Nelle mie idee Nel mio carattere Nelle mie conveni E dappertutto Sarò frainteso Non dobbiamo permettere Che le persone Ci indovinino Ma non per il bene Loro anche Ma per il bene mio Se mi tengo tutto dentro Non sto manifestando Indizi Per far capire Gli altri Chi diavolo sono E allora su cosa Si basano le relazioni Sul caso Tu Che ti piacciono Sei i tuoi pensieri Sei le tue idee Ed esprimerli davanti A chi ti vuole bene È fondamentale Per tre motivi Il primo è Per Accorgerti Che ti sei sbagliato Crearti occasioni Di maturazione Se ti esprimi Le tue idee Le tue convinzioni Si scontreranno Con la realtà E la realtà Come dicevo prima È fatta dalle idee Degli altri E allora L'unico modo Per accorgermi Che quello che mi tengo dentro È sbagliato Qualsiasi convinzione Se essa politica Convinzioni su me stesso Quante volte Ci raccontiamo Delle balle Tipo Io non riuscirò mai Ad avere una relazione Con qualcuno E invece poi Succede Perché ti è ricostruito Quella scusa L'avevi tenuta per te Quando la tiri fuori La gente ti guarda E dice Ma che cazzo Stai dicendo Quindi La prima è Un'occasione di maturazione Devi esprimerti Per accorgerti Che ti eri sbagliato La seconda È molto molto Terra a terra Se ti esprimi Fai capire Agli altri Chi sei Non costringi Gli altri A indovinare Chi sei E questo quindi Ha a che fare Con le relazioni Anche con la moltiplicazione Di relazioni E poi c'è un terzo punto Che forse è il più essenziale Permetti A tuoi simili Di avvicinarti Questo ha a che fare Con la selezione Se tu ti tieni Tutto dentro Non avrai mai La capacità Di selezionare Gli altri E di essere selezionato Sarai Sarai in un ambito Totalmente randomico Di casualità Completa In effetti E questa è una cosa Che io ribadisco spesso Perché tante volte Mi scrivete su Instagram Via mail Dicendomi Ah Rick Ma io non riesco Ad avere amicizie Perché non riesco Quando noi ci lamentiamo Del fatto che le persone Intorno a noi Non ci capiscono Nel 90% Il problema Sta lì Nel fatto che Non abbiamo mai Detto chi siamo Come faccio ad essere Capito Se non mostro Come faccio ad essere Capito Se non mostro Per paura Di essere rifiutato Frainteso Sarai rifiutato Frainteso Perché non dici Quello che sei Quindi in realtà Stai creando Il problema Che tu vorresti evitare Il problema Quindi è lì Perché Magari Gli altri Sono effettivamente Inadatti a me Ma non ho scelta Saranno sempre persone Inadatte a me Quelle che entrano In contatto con me Quindi avrò sempre Esperienze terribili Oppure Ancora peggio Le persone che ho intorno Magari sono Simili a me Sono adatti a me Ma io non lo so Non posso saperlo Perché non ho mai Espresso nulla Tenersi tutto dentro Significa lasciare Tutto al caso E costruiremo Relazioni Che non sono relazioni E le demoliremo Sulla base del fatto Che non sono relazioni E rimarremo soli Perché avremo Chiuso tutte le opzioni E quindi L'ultima regola Per demolire Tutte quante Le relazioni possibili E tieniti sempre Tutto dentro Basta con questa paura Di esprimersi Veramente Basta Non se ne può più Quindi Cerchiamo di cambiare Tendenza Ora Quando ci poniamo La domanda Vuoi avere una relazione Cioè vuoi avere una relazione Di amicizia D'amore Un rapporto lavorativo Vuoi Vuoi avere relazioni Con la R maiuscola Le domande Che stanno sotto A questa domanda Sono un po' più Puntuali Primo Vuoi averne cura Vuoi avere cura Di una relazione Cioè vuoi metterla in discussione Vuoi capire che cos'è Vuoi fare la fatica In seconda istanza Vuoi che sia il tuo scopo Avere una relazione O vuoi avere relazioni Per mostrare agli altri Che sei maturato Mostrare agli altri Che non sei più da solo Mostrare agli altri Che sei un figo Mostrare agli altri Che è questo Credi veramente Corrompono E che lascia andare E vuoi trascorrere tu Nelle relazioni Come se fossi Un passeggero Casuale Di veicoli Che di volta in volta Ti transitano di fronte Mi sembra un modo Molto triste Di vivere le relazioni Sinceramente Io sono convinto Di questo Perché in parte L'ho vissuto La solitudine Spesso È la scelta obbligata Di chi Voleva relazioni Senza la fatica Della cura Delle relazioni È questo Che ci piace o meno La formula Per l'infelicità Quindi per quanto Il titolo di questo Dei ricogito Fosse assolutamente Assolutamente Ironico E sarcastico Insomma Modi giusti Per distruggere Le tue relazioni Spero Che questa puntata Porti qualche spunto Per avere cura Delle relazioni Questa è la mia speranza E niente Me lo direte voi Con un commento Adesso se siete in live Ovviamente non andatevene Perché torniamo a leggere La chat Quindi insomma Siamo lì E chiacchieriamo Per un po' Per tutti gli altri Insomma Condividete la puntata Venite a trovarci Nei prossimi eventi Dal vivo Online e on life E ovviamente Non dimenticate Che non è tutto noia Ciò che pensa Ciao Per un po' Grazie a tutti.